Nell'esercizio di questo video si chiede di determinare parametri α e β in modo tale che la funzione f di x sia derivabile su tutto l'asse reale, dove la funzione f di x è una funzione definita per casi ed è definita come e elevato alla 2x meno 1 per x strettamente positivo, mentre α più βx per x minore o uguale di 0. Allora, la prima cosa che osserviamo è che f di x appunto è definita da due rami, un ramo definito per x è strettamente positivo, l'altro e per x minore o uguale di 0. È chiaro che il ramo definito per x è strettamente positivo, ovvero e alla 2x meno 1 è una funzione, dove è definita? È una funzione continua, derivabile quante volte voglio, per cui non dà problemi. Stessa cosa, il ramo definito per x minore o uguale di 0 è una retta, sappiamo che una retta è continua, è derivabile, per cui non ci dà problemi, cos'è che ci dà problema? Il problema di questa funzione è il punto di raccordo. problema di f di x sta in x uguale a 0, cioè come si raccordano questi due rami? Si raccordano bene, si raccordano con derivabilità oppure no? Allora, il primo passo, prima ancora di studiare la derivabilità è studiare la continuità, perché sappiamo una funzione se è derivabile è anche continua, quindi come minimo andiamo a vedere se questa nostra funzione f di x è continua oppure come possiamo scegliere alfa e beta, tali che in modo che questa funzione f di x sia almeno continua, perché quello che potrebbe succedere, cos'è? Supponiamo, faccio un piccolo disegnino, no? Che qui ci sia, questo qui sia l'asse reale, questo sia x uguale a 0, abbiamo a destra dello 0 un ramo che va come un esponenziale, quindi sarà qualcosa di questo tipo. A sinistra è lo 0 una retta, che potrebbe essere qualcosa di questo tipo, quindi qui non è definito, qui è definito, potrebbe, no? Questa funzione potrebbe tranquillamente avere un salto. Io voglio scegliere alfa e beta in modo che almeno si raccordino bene, per cui almeno questi due rami si raccordano bene in x uguale a 0. Come facciamo? Quindi dobbiamo, come già osservato, studiare la continuità di f di x significa studiare la continuità di f di x nel punto x uguale a 0, perché tanto il ramo di destra e il ramo di sinistra, presi da soli, sono continui, il problema è che potrebbero raccordarsi male, quindi dobbiamo studiare la continuità di f di x in x uguale a 0. Due punti. Usiamo la definizione, quando è che una funzione si dice continua in un punto, quando è che f di x è continuo in x uguale a 0, succede quindi, dobbiamo verificare che il limite per x che tende a 0 di f di x, questo limite esiste e vale proprio f di 0. Questa condizione qua per definizione ha la continuità di f di x nel punto x uguale a 0. E ovviamente questa condizione è equivalente a dire che il limite per x che tende a 0 alla destra di f di x uguale al limite per x che tende a 0 alla sinistra di f di x uguale a f calcolato in 0. Perché sappiamo che dire che il limite per x che tende a 0 alla destra di f di x esiste è del tutto equivalente a dire che il limite per x che tende a 0 alla destra, forse mi sono cioè dire che questo limite qua esiste è del tutto equivalente a dire che vale questa condizione qua cioè il limite da destra e il limite da sinistra esistono e sono uguali perché voglio parlare di limite da destra e limite da sinistra semplicemente per il fatto che quando andiamo a calcolarci il limite per x che tende a 0 di f di x cioè f di x è definita per casi per cui quale limite dobbiamo andare a calcolare e il limite di cosa? di quale ramo? del ramo definito per x maggiore di 0 o di quello definito per x minore o uguale di 0? beh sicuramente se x si avvicina, se separiamo le situazioni cioè se facciamo avvicinare una volta x a 0 da destra quindi per valori positivi e un'altra volta da sinistra allora riusciamo a fare tutto perché se x si avvicina a 0 per valori positivi quindi sto avvicinando a 0 da questa parte il ramo che dobbiamo prendere in considerazione è quello definito da e alla 2x meno 1 quindi stiamo calcolando il limite per x che tende a 0 da destra di e alla 2x meno 1 a questo punto andiamo a sostituire x uguale a 0 e quello che troviamo è 0 d'altro canto facciamo il limite per x che tende a 0 da sinistra di f di x questo qui è il limite per x che tende a 0 da sinistra di che cosa? mi sto avvicinando a 0 da sinistra per cui il ramo che definisce f di x quando x ha valori negativi è alfa più beta x è la retta quindi di alfa più beta x se andiamo a sostituire x uguale a 0 troviamo questo limite fa alfa infine quanto fa f di 0 beh per x uguale a 0 f di x è definito da questo ramo qui perché qui abbiamo x minore o uguale a 0 per cui f di 0 dobbiamo andare a sostituire x uguale a 0 in questa retta e quindi otteniamo alfa più beta per 0 ovvero alfa allora la nostra condizione è il limite per x che tende a 0 da destra cioè 0 deve essere uguale al limite da sinistra alfa deve essere uguale a f di 0 che vale alfa e quindi la conclusione è che come minimo alfa deve essere uguale a 2 per garantirci la continuità della funzione f di x e quindi riscriviamoci la nostra funzione e alfa uguale a 0 scusate ma che 2 f di x è uguale a e alla 2x meno 1 per x strettamente positivi beta x per x minore o uguale di 0 a questo punto andiamoci a studiare la derivabilità come prima dobbiamo studiarci la derivabilità di f di x soltanto in un punto se è soltanto in x uguale a 0 che è il punto di raccordo vediamo un attimo cosa ci aspettiamo e faccio di nuovo un disegnino allora stavolta metto un sistema di riferimento quindi il ramo di destra parte da x uguale a 0 e quando x uguale a 0 vale proprio 0 poi va con un esponenziale quindi farà qualcosa di questo tipo mentre il ramo di sinistra è semplicemente una retta che in x uguale a 0 arriva in 0 per cui qualcosa di questo tipo abbiamo visto che con la scelta alfa uguale a 0 si raccordano bene il ramo di destra e il ramo di sinistra il problema è quanto si raccordano bene perché come potete vedere in una situazione di questo caso di questo tipo abbiamo un punto angoloso sappiamo che una funzione che ha un punto angoloso in quel punto non è derivabile per cui una funzione il cui grafico è questo che ho appena disegnato non è derivabile in x uguale a 0 e quindi dobbiamo diciamo sceglierci beta cioè la retta in modo che questo punto angoloso scompaglia come possiamo fare beh l'idea è molto semplice è che se no il ramo di destra arriva con diciamo questa retta tangente in x uguale a 0 allora ci aspettiamo che la retta giusta no del tipo beta x che si raccorda con il ramo di destra con derivabilità è proprio questa retta tangente in questo modo ho tolto il punto angoloso e questo è l'unico modo per togliere il punto angoloso perché come scelgo una qualunque altra retta ho di nuovo formato un punto angoloso per cui diciamo quello che ci aspettiamo beta che è il coefficiente angolare di questa retta no della retta beta x quindi il coefficiente angolare di questa retta disegnata in rosso deve essere proprio uguale al coefficiente angolare della retta tangente in x uguale a 0 di questo ramo cosa vuol dire deve essere uguale alla derivata di e alla 2x meno 1 valutata in x uguale a 0 cioè la derivata del coefficiente angolare della retta tangente in quale punto in x uguale a 0 se andiamo a farci questa derivata allora questa qui sarebbe 2 volte e alla 2x calcolato in x uguale a 0 e quindi 2 se andiamo a sostituire x uguale a 0 e quindi ci aspettiamo beta uguale a 2 va bene adesso dimostriamo questo fatto con le definizioni abbiamo detto che dobbiamo studiare la derivabilità in x uguale a 0 come facciamo usiamo la definizione quando ecco una funzione derivabile in x uguale a 0 se e soltanto se il limite del rapporto incrementale quindi per h che tende a 0 di f di 0 più h meno f di 0 diviso h esiste finito di nuovo come prima questo limite esiste finito se e soltanto se il limite per h che tende a 0 da destra e il limite per h che tende a 0 da sinistra esistono finiti e sono tra di loro uguali quindi quello che andremo a calcolarci noi è prima il limite per h che tende a 0 da destra di f di 0 più h vuol dire f di h meno f di 0 abbiamo già visto che per x uguale a 0 beta x ovviamente vale 0 quindi f di 0 vale 0 quindi posso direttamente non scriverlo diviso h perché ho separato questo limite in limite da destra e in limite da sinistra semplicemente il fatto è che quando mi avvicino a 0 per valori positivi f di h è definito da questo ramo qui perché è definito per x maggiore di 0 mentre quando mi avvicino a 0 per valori negativi il ramo che definisce f di x è questo ramo qui quindi questo qui sarà il limite per h che tende a 0 da destra di f di quindi il limite per h che tende a 0 da destra di e elevato alla 2h meno 1 diviso h vabbè in questo limite sappiamo subito risolvere un limite notevole moltiplichiamo e dividiamo per 2 a questo punto questo limite qui quando h tende a 0 fa 1 e quindi il risultato qui è 2 e diciamo l'osservazione da fare è che questo 2 come ci aspettiamo d'altronde è semplicemente uguale alla derivata del ramo di destra calcolata in x uguale a 0 perché stiamo facendo il rapporto incrementale in centrato in x uguale a 0 però del ramo di destra per cui uguale sarebbe la derivata di e alla 2x meno 1 calcolato poi in x uguale a 0 abbiamo già visto che fa 2 poi abbiamo il limite per h che tende a 0 da sinistra di f di h su h uguale al limite per h che tende a 0 da sinistra quindi meno di beta h diviso h e fa beta ovviamente perché h si amplifica di nuovo osservazione questo qui è uguale proprio stiamo facendo il rapporto incrementale centrato in x uguale a 0 però quando h si avvicina a 0 da sinistra quindi del ramo definito per x minore o uguale a 0 quindi quello che ci aspettiamo è che questa sia proprio la derivata del ramo quindi beta x calcolato poi in x uguale a 0 la derivata di beta x è beta se la calcolo in x uguale a 0 non dipende da x per cui questa quantità qui è proprio beta come ci aspettavamo e quindi abbiamo che questo limite esiste finito se e soltanto se questi due limiti sono uguali tra di loro quindi se e soltanto se beta è uguale a 2 che era proprio quello che ci aspettavamo e quindi la conclusione è che f di x è derivabile in x uguale a 0 se e soltanto se beta è uguale a 2 e quindi con la scelta alfa uguale a 0 e beta uguale a 2 f di x è derivabile per ogni x appartenente ad r perché abbiamo visto che in tutti i punti eccetto lo 0 f di x era derivabile perché è definita da rami che sono derivabili l'unico punto che dava problemi era il punto x uguale a 0 che è il punto di raccordo tra i due rami con la scelta alfa uguale a 0 e beta uguale a 2 f di x è derivabile anche in x uguale a 0 e quindi è derivabile su tutto l'asse reale con questo abbiamo concluso l'esercizio se ti è piaciuto questo video ricordati di iscriverti al canale grazie